ciao a tutto bene ragazzi siamo venuti in un nuovo video qui siamo con dei miei amici vabbè dei miei amici metano skin spegnete la live di mike sennò dopo si vede male mamma hai il pop con? hai il pop con? no amore non hai il pop con? ma ti hanno gelato? no gli ultimi li ho fatti con te non hai voglia di gelato? hai fame? cosa ti do? ti faccio un panino con il formaggio ok due fettini del pan di tost e del formaggio dentro sei sicuro di quello di mangiare? sei sicuro di quello di mangiare? sei sicuro di quello di mangiare? si ma piccolo anzi no no dai io che ti mangio il gelato dopo me la mangio il gelato io c'ho una mitraglietta silenziata ok 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 Io, io, io Gente, lasciamola me, è uno A terra Venite, venite qua Io voglio fai tare Sì, io vado 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 Dammi il nano, le verde Dammi il nano Io c'ho un po' bellissimo, chi lo vuole Venite dentro al magazzino Venite dentro al magazzino L'ho messo a terra 1 Io ho messo una terra No lo stanno curando No lo stanno c'ho un po' bellissimo 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 Sono finiti No lo stanno c'ho un po' bellissimo 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 Non ho armi No lo stanno c'ho un po' bellissimo No lo stanno c'ho un po' bellissimo No lo stanno c'ho un po' bellissimo Grazie a tutti 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 non rubare tutto perché dovete rubare tutto non rubare tutto aspettate, aspettate, aspettate 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 Aspetta. Devo arrivare a 20 kg, sono 11, signora, tra poco viene il padrone di sotto, mi sgrinda. Non rubare l'ulta, e lo ruba. Eh, ma non prenderteli tutti. Dammi i colpi pompa. Dammi. Sì, va bene. Io te li ho lasciati i colpi pompa. Sì, va bene. 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 No. Sì. Sì, va bene. 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 Sì. Sì, va bene. Molto ve lo vuoi. Sì, va bene. Ciao. Grazie. Grazie. Tanto ormai mi sono curato. Grazie. 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 E si ruba tutto il lutto. E dammelo. E me li dai tutti. dove sono qua sono qua e sei fermo però poi rubatemi tutto all'ultimo tanto bravi bravi l'altro mi ha rubato tutto Grazie per la visione Grazie a tutti. 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 Ricky viene. Ricky, vieni. Vai, 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 vai. Grazie a tutti. Io sto facendo. una live. Ricky. No, no, no. Molano, mollano, mollano. Molano, no, 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 no. Vieni, vieni. Vieni. vabbè. Vieni, 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 io so dove andare, si, se lo pina, non so manco chi è, chi è che c'è chi, no? Per me puoi andare, si vai, a 19.30 basta, no, a 17.30 basta, anzi, a 16.00, 2 minuti. Ma chi è che si sta muovendo? Sì, no, sì, sì, puoi usare tutta. È sopra di me, è sopra di me. Sì, no, a 17.00. Sì, no, a 18.00. ... ... ... ... Sto parlando a caso. Lo so. Si hai vinto. Si ritorna dove avevamo iniziato. Si. Dove sei? Vai a contare. Vai a contare. Fermo Riccardo. Aspetta. No. Ma tanto ti diciamo noi dove andare. Ti diciamo noi. Ricchi vieni da me. Ricchi vieni. Vieni. Conosco tutto il pinnacolo io. Vieni. Vieni. Vieni qua. Qua dietro. Vieni. Vieni. Puoi andare. Puoi andare. Puoi andare. Puoi andare. Perfetto. Sì. Vieni. Vieni. Riccardo, qua Riccardo, se mi becchi Riccardo, se mi becchi ti giuro che ti becco io, ti ho fatto solo 34 e basta, se ti uccido sei eliminato, sì, deve arrivare a 32 e 30, ancora un minuto e mezzo, ma intanto io e lui siamo insieme, è la nuova, oh è caricato, Riccardo ci è passato davanti, ci è passato davanti Riccardo, aiuti, abbiamo vinto, Riccardo, Riccardo, ti ha beccato a te? Ah no, è vero, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi, vai Riccardo, no ma siamo ancora vivi, non ci hai uccisi. Dammi tutti i colpi. Andate a cercare, cioè io devo cercare, vabbè. Andate a cercare, dai muovetevi, se no vi lancio questa. Io vado. un eliminato. siamo a 10 a 11 a 9 e 30. sì, 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 però te con il piccone, vai sì, capati, capati, capati. ora siamo ancora vivi, non ci hai ucciso, non ci hai ucciso, non ci hai ucciso. sì, ma non prendiamo. manca poco, sì, mancano 20 minuti secondi. forse è sotto la torta, aspetta. tu vuoi controllare in quel lato? un secondo, fine. sì. l'ho visto. l'ho visto. non ci credo. ti ho visto. ah no, ma era lui. ti ho visto. tu vuoi? tu vuoi? tu vuoi? ma la dove doveri 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 ma noi siamo anche arrivati qua dai adesso chi tocca ai morto che prima a te a te perché sei morto primo dove sei no c'è lui ormai e non lo fai te non lo fai lui dai date aspetta mi ricky andiamo ricky ricky vieni e puoi andare non so io sono pagato io sono pagato ti dico Un po' si vede, soltanto la testa, sono in live da un'ora, no, sì. Sono troppo buggato, io ti vedo, no, sono fuori di casa, sì, vale. Mi ha ucciso. Dammi tutto, bravo. Allora tocca a me a cercare di nuovo, no, no, tu carichi, è vero, no, tu carichi. Io lo so, io so dov'è, lo sai che io so dov'è? Guarda, ti faccio vedere dove ero buggato, guarda, vieni, ero qui, buggato, ero qui, guarda, ero qui buggato. Lo so, è andato verso di qua, qua. No, allora è fuori casa perché lui non sapeva neanche se si potrebbe nascondere in casa. Io l'ho vista. Io l'ho vista. Guarda, guarda secondi. Tantos per attacare No, è scarso Di meno Tu Finito Era qua Eri dentro una casa Era dentro una casa Ma io non sapevo neanche dove era No, no, tanto l'abbiamo visto, dai Dammi il pompa Dammi i colpi Stai fermo? Sì, vieni Hai due pompa Io c'ho la palestra Non si distrugge pinacoli Ti do il gioco tieni Non ti sta occidendo Dove sei andato? Ho trovato un posto bellissimo No, vai Intanto vado a bere Tant'è qua Allora, Riccardo mi sei passato davanti Ascolta, guardi che sono alle 11 Sì, sì Alle 11, sì Vai avanti ancora tanto? No, aspetta Ti dico io quando Finiamo tutti Quando Riccardo A che ora devi spegnere? Quando avrò un'ora e mezza di live Finisco Mi è passata Mi è passata Allora dopo Spengo la live Basta No, poi facciamo una partita io e lui Poi basta Con me Ti ho fatto io vincere È vero Guarda che ho fatto tre Guarda che potevo perdere Basta che avevo le trappole Solo perché avevo le trappole Sennò perdevo Ma te sei in una casa? Chi è che apre le porte? Te apri le porte? Riccardo sei sotto Sopra di me 30 secondi 38 37 36 Sì No, è quasi È a fianco Mi ha provato 17 secondi 17 secondi No, è finito il tempo È finito No, è tornata Venite qua Dammi pompa Tocca a me Tocca a me Tocca a me Tocca a me Come ti permetti Come ti permetti No, dai facciamo l'ultimo Devo c'è Io Dai, basta Come hai fatto a me Riccardo Non prendermi lungo tanto siete tutte e due one shot vai tanto non sto guardando quando finisce il mio ballo io parto ok io vado ho sentito uno che veniva a vestire qua mi senti? ho sentito uno che veniva a vestire ho sentito uno che veniva allora sei qua allora quando l'hai detto eri qua la che l'hai detto adesso io ero proprio qua io so tutto 30 secondi dopo questi secondi mancano 30 secondi poi andiamo a fare copia di Euriki a quest'ora è presto che è casparato davvero? mi sembrava dolci ok allora come un palloncino sono io 40 secondi io dopo ho detto dopo questi secondi ce ne sono altri 30 visto? non è vero non ti ho manco visto sì non è vero non ti ho manco visto sì 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 sono finiti sì è vero non ti ho manco visto perché devo andare a fare il vaccino perché devo andare a fare il vaccino sì se voglio anche per le 11 forse eh va bene va bene non ho fuori pinacoli dovrebbe si costruisce sì hai scelta? oh eh perché ma voi feitare uno contro uno ok prenditi le armi a sponde